Il primo argomento della serata è stata la settimana vissuta da Daniele Aida dentro la suite e il conduttore è stato messo alla prova costretto, tra virgolette, a vivere tutta la settimana con la bellissima showgirl venezuelana. Tra tentazioni e amicamenti, è riuscito a non cadere mai in tentazione grazie alle sue particolari meditazioni. Nonostante il sangue e il calore sudamericano di Aida e 70 giorni di isolamento, Daniele è riuscito a rifiutare di dormire nello stesso letto di Aida, accontentandosi soltanto di alcuni balli latino-americani insieme in quanto fedelissimo alla sua Filippa, madre di sua figlia Stella. Il grande fratello ha così voluto fare uno scherzo a Daniele, facendogli credere che la sua compagna Filippa si sia arrabbiata dopo aver visto degli atteggiamenti troppo spinti da parte sua. Daniele, incredulo, ha minacciato di uscire immediatamente dalla casa per andare a chiarire con lei, ma non ha fatto in tempo a dirlo che Ilari lo ha mandato in stazione, dove ha incontrato proprio la sua bella. In una scenografia romanticissima, fatta di palloncini argentati e luci soffuse, Daniele e Filippa hanno mostrato tutto il loro amore reciproco baciandosi passionalmente davanti a tutta Italia, essendosi finalmente rivisti dopo più di due mesi, ed è qui che Daniele ha preso la decisione più difficile della sua vita, che fino ad ora non era mai riuscito a fare. Ha chiesto a Filippa di sposarlo la bella svedese, incredula, ha detto di sì. Non è ancora noto quando i due convoleranno a nozze, ma certamente ne sentiremo parlare presto.